Perchè volete provare questa roba di proposito? Amici di Spazio Games bentornati sul nostro canale, io lo sapete già sono Stefania, ho fatto un intro abbastanza cazzona per il video di oggi, però ci stava perché questi giorni con Halloween ho visto tantissima corsa, come sempre. Ai videogiochi horror, ai film horror, ai medium horror, a tutte le proposte di opere horror in genere, insomma possiamo accorciarla così. Ad esempio ci sono persone, come anche il nostro Domenico se seguite le nostre live, che spesso mi dicono dovresti assolutamente giocare questo gioco, non hai idea, non ho dormito per una settimana. Oppure devi recuperare questo gioco, non riuscivo a togliermelo dalla testa, avevo i brividi, pure quando andavo in bagno, in corridoio mi sembrava di avere qualcosa che mi seguisse. Cioè, perché dovrei? Perché? Perché? Mi sono domandata perché? Mi sono domandata perché, anche perché, guardate ragazzi come mi sbrago mentre parlo ormai completamente a mio agio, mi sono domandata perché, anche perché il primissimo approccio che io ebbi con i videogiochi mi dia delle sensazioni horror, pur non essendo un horror, perché avevo 3-4 anni, era Doom, non ci stavo giocando io, però ricordo che mi spaventò a morte, io guardavo questo gioco come se fosse la cosa più spaventosa mai vista sul pianeta. Quindi, mi sono domandata, appunto, a proposito di Halloween, perché la gente va a inseguire questo tipo di emozione? Perché vogliamo spaventarci? Perché io stessa, che non posso dirmi una cultrice di videogiochi horror tutt'altro, ho giocato, ad esempio, titoli come Project Zero 2, che mi inquietavano, che mi spaventavano, che mi dicevano, oddio, che cosa orribile, mamma mia, ho paura, perché continuavo a giocarci? E perché l'ho amato. Perché lo facciamo? Mi sono posta questo dubbio, da brava Stefania Sperandio quale sono, ho tirato un sacco di linee, ho cercato di capirci qualcosa, e quindi ho deciso di arrivare oggi a discuterne con voi. Allora, mi perdonerete se metto vicino il computer, perché ho trovato delle risposte da alcuni studiosi, in modo che prima vediamo un attimo cosa ci dicono gli studiosi sull'horror in sé, non sul videogioco horror specificamente, proprio sul perché alle persone piaccia il genere horror. Ho trovato, ad esempio, che secondo gli evoluzionisti, la psicologia evoluzionista, l'horror ha un ascendente sugli esseri umani perché richiama le nostre paure primordiali. Ad esempio, noi abbiamo paura dei mostri che mangiano gli umani, che ne so, film sui dinosauri, o film sulle creature gigantesche che ci pappano, perché è una paura primordiale che continua ad appartenere agli uomini, anche se adesso abbiamo stati evolutivi un po' diversi rispetto a quando si è generata, e spero che nessuno rischi di finire quotidianamente mangiato da qualcos'altro. Un'altra paura primordiale, ad esempio, che gli umani hanno è quella di infettarsi e quella delle malattie, che è alla base del genere, ad esempio, degli zombie, dove tutti si infettano con qualcosa, ci sono sempre più infetti, eccetera, eccetera, eccetera. A tal proposito, ecco, vi leggo, che il dottor Christian Jarrett, che fece un intervento online per la BBC, neuroscienziato cognitivo, spiegava I film horror essenzialmente ci danno un modo sicuro di provare mentalmente come ci comporteremmo di fronte a dei pericoli primordiali. Curiosamente, più sono negative le emozioni che una persona dice di aver provato durante un'esperienza horror, più è probabile che dica che ami quel genere. Una teoria sostiene che questo sia dovuto al fatto che queste persone, soprattutto quelle che sono affini alla ricerca di emozioni, provino piacere dalla sensazione di sollievo che si innesca dopo una forte paura. Quindi, secondo Jarrett, la nostra ricerca della paura è data dal fatto che sono paure che abbiamo primordialmente dentro di noi ed è data dal fatto che quando questi spaventi passano, perché sono spaventi in ambienti controllati, sono simulati e noi non ce lo dimentichiamo del tutto mentre li viviamo, abbiamo una sensazione di piacere per averli superati, perché la paura è finita e quindi può scendere, possiamo tornare alla normalità. Un'altra opinione invece è quella del dottor Colton Scrivener, del Department of Comparative Human Development dell'Università di Chicago ed è stato horror anche leggervi tutta questa cosa di seguito, ragazzi. Questo studioso che è specializzato proprio nel perché ci piacciono gli horror, nel capire perché ci piacciono gli horror, ha fatto notare come la passione per gli horror ci renda più preparati ai pericoli reali. Cioè, secondo lui, è come se confrontarci con questo tipo di emozioni in una realtà simulata, in una realtà altra, in una realtà sotto controllo come quella di un film, di un libro, di un videogioco, ci permette di prendere confidenza con questo tipo di emozioni negative e quindi quando ci capiteranno sul serio, secondo lui, sentiremmo come se avessimo già preso la mano, come se conoscessimo già le misure sul gestire il terrore, sul gestire il panico, sul gestire l'ansia. Nelle sue parole, si tratta di imparare e prevedere il mondo che ti sta intorno. Penso che le persone che guardano tanti horror stiano imparando a commisurarsi con l'incertezza, con la suspense e con l'ansia. C'è proprio uno studio del professor Skrivner che sostiene che effettivamente coloro che fruiscono di tanti horror e che vanno a caccia di esperienze horror hanno vissuto i momenti più cupi di quarantena della pandemia da Covid-19 in modo più sano, più razionale in un certo senso rispetto a quelli che si sono fatti prendere più dello scoramento è che, secondo i suoi dati, erano meno abituati ad avere a che fare con questo tipo di emozioni. Quindi ci sarebbe anche un fondamento provato nell'opinione di Skrivner, per cui noi prendendo confidenza con un certo tipo di emozioni in un ambiente virtuale o comunque in un ambiente fittizio, dopo siamo più agili nel gestirle, nel tenerle sotto controllo quando queste emozioni si verificano davvero. Ha una visione ancora diversa il professor Malcolm Tarvey, direttore del programma Film and Media Studies della Tufts University, secondo il quale ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è che noi abbiamo una specie di bestia interiore, è molto inquietante questa cosa quindi in tema con il video, che sappiamo di non poter lasciare uscire e quindi ci sfoghiamo e la sfoghiamo nel vedere cosa fanno le bestie, tra tante virgolette, che sono presenti all'interno dei film horror. Che ne so, il killer assassino che uccide tutti, dà un po' soddisfazione a questa parte più bestiale di noi, che non si comporterebbe mai così nella vita reale ed è compiaciuta dal vedere questi atti compiersi nella controparte virtuale, nella controparte fittizia e quant'altro. Un'altra cosa, sempre secondo il professor Tarvey, è che noi siamo anche soddisfatti dalla scoperta dell'orrore, il cosiddetto orrore dilettevole. Se noi vediamo ad esempio un fatto turpe, lo troviamo ripilante ma non riusciamo a distogliere lo sguardo. Questa cosa, secondo lo studioso, avviene quando noi ci confrontiamo con gli horror anche in merito alla mente dell'assassino o ai misteri legati al mostro. Nelle sue parole, una cosa che è parte delle narrative horror è il processo in cui le persone scoprono la natura del mostro, quali sono i suoi poteri, quali i suoi punti deboli, da dove è arrivato. Si potrebbe dire che è il processo di scoperta quello che ci godiamo all'interno degli horror. E un altro aspetto fondamentale da unirsi a questi, secondo il professor Tarvi è come vi accendevo prima il fatto che noi proviamo tutte queste emozioni, scopriamo la mente del mostro, lasciamo andare la bestia interiore in un ambiente controllato che non riporta nessun tipo di conseguenze nel mondo reale. Come scrive il professore, quello che c'è di speciale nel vivere gli horror è che puoi sentire certe forte emozioni senza soffrirne le conseguenze. Questo ti consente di godertela appieno e di concentrarti solo su quelle. E questo, d'altro canto, nel mondo reale ci permette di avvicinarci magari ad altre persone con cui condividiamo queste emozioni, quindi ci aiuta a stringere legami, ci fa sentire più aperti, mostrarci anche in un certo senso vulnerabili, apre alla condivisione, quindi ha effetti positivi sulla nostra vita reale, quella da questa parte dello schermo, che per voi è quella, però ci siamo capiti. Sono tutte visioni che ho trovato molto interessanti perché è molto soggettivo che cosa fa paura alle persone. Vi faccio un esempio. Io, come vi dicevo, ho avuto molta paura di Project Zero 2, ciò nonostante l'ho portato avanti eppure, ad esempio, uscivo per strada e avevo la sensazione di avere i fantasmi di Project Zero 2 che mi spuntavano dappertutto perché ero molto suggestionata dal gioco, però non ho mai sentito la necessità di metterlo in pausa e saltarne fuori. Ho sentito invece questa necessità in un gioco che non vuole essere da etichetta di per sé horror come il Blade Senus Sacrifice, eppure in questo mi è capitato. Mi è capitata una sequenza che non vi spoilerò, in cui il gioco che gioca molto con la mente della protagonista che è il centro della narrazione, il gioco azzera praticamente le immagini, ti lascia con i fantasmi nella tua testa, si fa molto claustrofobico e in quel momento, forse anche perché ha fatto leva su debolezze particolari mie, io ho dovuto mettere in pausa il gioco perché avevo bisogno di uscirne. Quindi è molto, molto soggettivo che cosa innesca in noi meccanismi di piacere, che cosa innesca in noi meccanismi dell'orrore che poi ci compiace quando quell'esperienza di orrore è finita. Dipende da tutte le persone e probabilmente è il motivo per cui esistono tipologie di horror così differenti le une dalle altre. Andando a riportare il discorso sui binari del videogioco, una cosa che mi è venuta in mente è che sicuramente il videogioco horror rientra in due categorie molto interessanti di gioco identificate dallo studioso Roger Keylois che ha scritto se lo volete recuperare è molto interessante il gioco e gli uomini, la maschera e la vertigine lo trovate in italiano edito da Bonpiani. Tra le diverse tipologie di gioco e di modalità di gioco, di natura di gioco che Keylois identifica ce n'è una che si chiama Ilnix. Questa qui è da vedersi come il gioco come vertigine ed è una cosa che io rivedo all'interno del giocare i videogiochi horror. Allora, gioco come vertigine si intende ad esempio quando voi salite su un ottovolante, su una giostra, quando fate bungee jumping avete una specie di sovvertimento anche delle vostre emozioni fisiche di cui voi non potete avere controllo. Volete provare la vertigine, no? Volete provare un'emozione che supera ogni cosa e che non è normale, che non viene dalla vita reale, che non viene dalla quotidianità. È un po' il discorso che dicevamo prima del giocare gli horror o vivere gli horror per provare delle sensazioni in un ambiente controllato. Tu sai di poterne uscire quando vuoi, però le provi e quelle sensazioni sono autentiche. Quindi mi ha ricordato molto la visione della vertigine secondo chi lo ha. D'altro canto trovo che questa visione del videogioco horror si sposi anche a un'altra sua interpretazione dell'attività di gioco che è quella del gioco come Mimicry. Praticamente è il gioco come accettazione del fatto che questa è una realtà altra che non esiste, però tu la prendi come buona fin tanto che c'è. Pensate che ne so, ai LARP, ai giochi di ruolo fatti nella realtà, tutti lo accettano, nessuno sembra strano che va in giro con spada, scudo ed elmo, perché quella è quella realtà. Quindi quando noi giochiamo un gioco horror siamo consapevoli che una finzione è valido per tutti i tipi di giochi con gli horror un pochino di più e siamo consapevoli che quelle sono le regole del gioco e ci emozioniamo sulla base di quelle regole del gioco che imita una realtà altra completamente scissa da quella dove noi siamo abitualmente. Quindi secondo me unendo questa natura del gioco che è realtà altra, che sappiamo essere una cosa a sé rispetto al mondo reale e unendo la natura della ricerca della vertigine, della ricerca dell'emozione forte, della ricerca dell'essere capottati, dell'essere messi sotto sopra e a soquadro dalle emozioni forti che ci danno i videogiochi horror, secondo me abbiamo un po' un'idea del perché i giochi horror siano così forti, perché uniscono proprio queste due nature, le emozioni soverchianti in un mondo altro, lontanissimo da quella a cui siamo abituati. Cosa c'è di più nel videogioco rispetto a tutto questo? C'è la proiezione. Quando noi guardiamo un film horror o leggiamo un film horror, noi ci sentiamo parte di quell'esperienza, ma non siamo attivi perché il cinema e perché i libri sono medium passivi. Invece il videogioco è un medium attivo dove noi interagiamo con il mezzo di comunicazione e lo possiamo influenzare. Spiegavano benissimo in psicologia dei videogiochi il professor Triberti e il professor Argenton che ci sono praticamente tre identità per il protagonista di un videogioco che entrano in ballo. Prendiamo l'esempio di Jill Valentine. Jill Valentine è un personaggio che Capcom ha definito che ha i suoi canoni, ha il suo carattere, noi sappiamo cosa aspettarci da Jill Valentine. Con Jill Valentine ci gioca Stefania Sperandio, quindi ci sono già due identità. C'è Jill, così come l'ha concepita Capcom, e c'è Stefania, che sono io. Quando noi giochiamo, si genera in realtà una terza identità, che è un'identità proiettiva, ossia quello che Stefania sovrappone alla Jill Valentine immaginata da Capcom. E questa Jill Valentine è solo mia. Se ci gioca il mio collega Domenico, la sua Jill può fare cose diverse e rapportarsi alle cose in modo diverso e quindi reagire nelle parti interattive in modo diverso rispetto a quello che fa la Jill Valentine di Stefania. Questo vale per tutti. Tu che stai guardando questo video, hai una tua Jill rispetto a quella di tuo fratello, della tua migliore amica, quella del tuo ragazzo, della tua fidanzata, sono tutte Jill diverse, perché hanno sfumature, sfaccettature che dipendono da chi sta giocando. Questa cosa è unica del videogioco, perché il videogioco è essere proiettivo. Quindi quando io gioco nei panni di Jill, non mi chiedo cosa farà Jill alla prossima orda di zombie, perché sono io che devo fare qualcosa alla prossima orda di zombie. e questo significa che io sono parte integrante di quel mondo altro che citavamo prima e che le emozioni mi arrivano in modo ancora più forte, perché io sono davvero lì dentro. Fino a quando io accetto che quella è una realtà altra, ok, ma è la realtà nella quale mi trovo adesso, io proverò delle emozioni molto forti che mi interessano in prima persona, perché queste cose le sto facendo io e i pericoli li devo affrontare io. ed è una cosa veramente potente all'interno del videogioco. Quindi se pensiamo a quello che si diceva prima, ossia il fatto che cerchiamo delle emozioni forti, il fatto che cerchiamo uno spavento, il fatto che cerchiamo anche di misurarci con emozioni che poi sapremo gestire meglio nella vita reale, capite che attraverso il videogioco, quindi vivendo in modo interattivo, questo tipo di emozioni arrivano in modo molto, molto, molto più forte e anche molto più efficace. E il fatto che arrivano in modo più forte, in modo più efficace, ci fa sentire un milione di volte più coraggiosi e più abili quando riusciamo a uscirne, che è parte della sfida. Io sono una pippa con i giochi horror, non ne gioco tantissimi, però quando ho finito Project Zero 2 ero la fascia della soddisfazione perché avevo superato le mie paure, avevo superato il mio limite di non giocare gli horror, ed ero molto soddisfatta e molto colpita dal viaggio che avevo affrontato. Quindi, in definitiva, noi siamo in un certo senso attratti dall'orrore dilettevole, no? Siamo attratti dall'orrore, siamo attratti da tutto quello che fa spavento, perché anche se è repellente come una calamita, ci attira verso di sé. E il fatto che ci attiri verso di sé ci suscita delle emozioni che noi proviamo in mondi che non sono reali, ma le emozioni lo sono. E lo sono tutte quelle cose che con quelle emozioni noi riportiamo con noi nel mondo reale dopo aver vissuto questo tipo di esperienze. Ed ecco un po' il mio punto di vista sul perché ci interessano i giochi horror, sul perché ci tuffiamo in questo tipo di esperienze, sul perché cerchiamo quella che Keloa chiamava la vertigine. Io ragazzi vi ringrazio come sempre per aver visto il video fino a qui, ho parlato tantissimo come al solito, spero però che lo spunto sia stato di vostro interesse, dato che ci siamo adesso con le bocce ferme di Halloween che è passato, se vi va, condividete qui sotto quali sono i vostri horror preferiti, quali vi sentite di raccomandare agli altri videogiocatori che bazzicano su Spazio Games per fargli provare quelle belle vertigini che avete provato anche voi. Io sono Stefania, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e vi do appuntamento presto sul canale di Spazio Games. Saliamo su una giostra, su un ottovolante, se ci buttiamo col bungee jumping... Devo insonorizzare questo ufficio. Ok. Il gioco come vertigine intende, ad esempio, quando noi saliamo su un ottovolante, quando saliamo in una gio... ma questi c'hanno il cont... cioè sanno a che ora io sto qua, se no non è possibile. Finito? Ok. Allora gioco come vertigine... cuatro da gioia in un certo po' il primo altro in una aca Grazie a tutti.